Di solito l'etanolo, che può essere usato anche come biocarburante, viene prodotto industrialmente per fermentazione dalla canna da zucchero o da altri vegetali. Loro invece l'hanno prodotto con un comunissimo batterio geneticamente modificato. È stato modificato con dei pezzi biologici sintetici disegnati da noi per fargli degradare il lattosio contenuto nel siero del latte e per convertire il lattosio in etanolo. Con questo progetto 11 studenti dell'Università di Pavia partecipano all'MIT di Boston alla sesta edizione di iGEM, la competizione studentesca dedicata a una disciplina sempre più importante, la biologia sintetica. Sicuramente ci ha dato un importantissimo aiuto a capire qual è il mondo della ricerca nell'ambito biologico e come interpretare tutti i dati che noi di solito vediamo solo arrivare senza capire da dove effettivamente provengano. Per partecipare occorre infatti saper costruire una squadra interdisciplinare. Dall'Italia solo le Università di Pavia e di Bologna ci sono riuscite.